Globuli bianchi alti Ecco, se uno vede 12.000 cosa deve pensare? Deve pensare che c'è stato un processo reattivo a un fatto infiammatorio per lo più e quindi si controlla l'esame a distanza dopo che sembra esaurito questo processo. Ecco, ma è un processo infiammatorio che può essere all'origine del fenomeno, può essere anche banale, un raffreddore, un'infezione delle vie urinarie, un dolore di pancia. Esattamente, infiammatorio, infettivo, di solito sono episodi influenzali, sono processi infettivi intercorrenti di qualunque natura e come prototipo tipico cito le infezioni delle vie urinarie perché sono molto frequenti le coliche delle vie urinarie. Ecco, ma è vero che, io ho detto 12.000 per dire un numero a caso, è vero che episodi anche relativamente banali come quelli che lei ha citato possono portare a valori tipo anche 20.000? Di più anche, 30-40.000, non è raro questo. Ecco, quindi diciamo che da questo punto di vista potremmo dire che non bisogna tanto spaventarsi, nel senso che finito l'episodio che ha causato il problema, cioè quello che si chiama leucocitosi, finisce anche la leucocitosi. E però, insomma, mi sa che qualche volta invece c'è da preoccuparsi. Quando? Innanzitutto, quando i sintomi del paziente cominciano a essere suggestivi per qualcosa di diverso, nella storia non c'è l'infezione, non c'è quello che si diceva prima, l'evento critico che può aver determinato questo, il paziente magari in completo benessere, i bianchi continuano a salire, ma non solo salgono, ma oltre agli elementi maturi, cioè che arrivano alla completa formazione, ci sono dei globuli bianchi immaturi e questi sono gli primi segni di allarme per noi. Allarme cosa ci fa pensare? Allarme ci fa pensare malattie tumorali del sangue, sono malattie cosiddette proliferative in cui si perde il controllo della produzione e quindi si hanno valori che possono arrivare a 100-150 mila globuli bianchi, magari con il paziente che non ha grandi sintomi, per esempio, nelle forme croniche. Se poi si andavanti a una proliferazione formata da elementi molto immaturi, la cosa è estremamente più preoccupante perché si andavanti a una leucemia acuta. Ecco, però diciamo quindi il messaggio fondamentale è che il rialzo dei globuli bianchi, anche se clamoroso, non deve necessariamente far preoccupare. Dipende da quanto lei mi dice clamoroso. A 20 mila, 30 mila. Esattamente. Ecco, se è legato a un fenomeno identificato come un'infezione o qualche altro evento del genere. Deve un pochino più far pensare che è necessario farsi vedere da un medico, in particolare da uno specialista, magari ematologo, se i globuli bianchi si alzano senza un motivo apparente. La durata del rialzo è costante e crescente. Esattamente. E se tra i globuli bianchi che si alzano si segnalate molte forme immature, allora si apre il capitolo delle leucemie, che è grosso e quindi non la possiamo affrontare oggi, e va valutato con attenzione. Corretto? Bene, allora grazie professoressa, arrivederci a tutti.